Aiaiaiaiaiai, vai da capo, da capo. Non piegano mai, è il primo giorno però, domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale. Fare la fila aperta e rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero. No, no, aspetta, aspetta. No, no, la seconda strafa come va? Come fa? Vi insegnerò l'amore a recitarle, preghiere ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori e ti scendiamo dagli antichi romani. E' questa stufa che c'è e basta appena ferme, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. E' sempre in fila per pre, marciate tutti con me e ricordatevi le brevi di storia. Noi siamo ai buoni perciò, abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare. E se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, no farti pregare. Se vuoi far parte delle persone serie. Ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, e da davanti a te ha tutte le strade aperte. Prendi la strada giusta e non sgarrare, se non puoi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta razione. A qualche cosa devi impor rinunciare, in cambio di tutta la libertà che devi non fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare. perché in nome del progresso della nazione, in fondo, in fondo, puoi sempre di gravi. Avanti, avanti, filo per tre. In filo per tre. Uno, due, uno, due, uno, due, uno. Plotone! Grazie! Grazie! Grazie.